Ben trovati, io sono Stefano del negozio Peroni di Roma. Oggi sono qui per presentarvi una novità appena arrivata qui in negozio da noi. Non a caso, siamo appena entrati nel mese della padella e subito è arrivato questo prodotto nuovo. Stiamo parlando delle nuovissime padelle dell'Alessi, realizzate in alluminio forgiato a freddo con un rivestimento a titanio brutti strato. Il manico è ricoperto interamente in silicone e quindi è un manico particolarmente piacevole al tatto. Stiamo parlando di due colorazioni diverse, abbiamo rosse e nere in 5 referenze e 5 misure differenti. Vi aspettiamo qui in negozio a Roma, in piazza dell'Unità 29, altrimenti online sul nostro sito peroni.snc.t. A presto!